Domenica e lunedì mattina si vota in molte città per scegliere i sindaci con i ballottaggi. È importante in questi casi andare a votare. Il buon governo che finalmente il centrodestra è data l'Italia è un'occasione anche per la tua città. Solo con maggiore sicurezza, più lavoro, un'adeguata attenzione ai fragili, nuove infrastrutture, difesa della legalità e taglio della burocrazia, è possibile immaginare un futuro dignitoso. Ad Ancona, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Vicenza, Terni e tutti i comuni non capoluogo al voto per il secondo turno. Il centrodestra è compatto e pronto a governare. Non sprecare questa occasione.